Insegnare la legalità alle giovani generazioni attraverso i racconti fumettati di supereroi contenuti nell'agenda scolastica della Polizia di Stato, il mio diario. E' questo il senso dell'iniziativa di respiro nazionale che ha toccato anche il capoluogo di regione e che ha visto all'Aquila la partecipazione delle scolaresche della scuola elementare Maestre Pie Filippine. Tante scuole dell'Aquilano e soprattutto riservato ai bambini della terza elementare che si preparano a passare alla quarta. Quindi diamo questo diario, non a caso lo diamo a fine anno quando invece i diari andrebbero dati all'inizio dell'anno ma questo proprio per evitare che i genitori sostengono poi la spesa per l'anno prossimo e i ragazzi già si trovano questo diario con dentro tutti dei richiami alle tematiche della legalità, della costituzione, del comportamento corretto e del rispetto altrui. Ecco parliamo di legalità in un momento in cui, soprattutto sulla fascia bassa della popolazione, quella che riguarda i bambini, si notano sempre più fenomeni particolari, chiamiamoli così. Quindi questo è un segnale importante, la Polizia di Stato c'è? Sì, la Polizia di Stato c'è e questo è uno strumento particolare perché al di là della nostra presenza nelle scuole, anche quelle superiori dove affrontiamo proprio tematiche specifiche con conferenze più tecniche e molto più di settore, invece trattandosi di bambini delle scuole elementari abbiamo un approccio diciamo così più soft attraverso questo diario dove ci sono dei supereroi che praticamente hanno dei superpoteri che poi consistono in poteri che riguardano la solidarietà, l'amicizia, il volersi bene. Quindi una lettura molto piacevole, scorrevole e anche simpatica che mese per mese tratta tutti questi temi che poi hanno come sfondo sempre il rispetto delle regole. L'educazione civica e quindi anche la legalità è uno dei punti cardine nella formazione dei ragazzi. Poi nella scuola primaria è di un'importanza eccezionale, già dalla prima lavoriamo con tutta una serie di progetti che portano i ragazzi a riflettere sulla legalità, sul concetto di legalità e tant'è vero che anche con le manifestazioni che partono da settembre noi come scuola siamo sempre assolutamente presenti. Ecco, questo diario verrà distribuito dalle classi terze ed è un punto di partenza diciamo. Esattamente, noi siamo felicissimi di essere stati presi in considerazione per questa manifestazione così importante. È una scuola che sta rifiorendo piano piano in centro e per la quale stiamo lavorando in maniera assidua e quindi ci fa onore il fatto che siamo stati scelti per una tale manifestazione.